a completare la prima fila il 7 di Anubis Davide Angeletti da solo in seconda fila ala d'imbarco il numero 8 con Federico Esposito che sostituisce Alessandro Cocciadoro rinuncia al lancio il numero 7 di Anubis a parte piano anche il 6 di Aronsmith Trebb allo stacco della macchina emergono America Spritz e Aria dei Venti all'interno c'è Avenula Varenne con Aria dei Venti che supera America Spritz terza posizione per Avenula Varenne quarta per Articoget rimane all'esterno Alba dell'Est poi c'è la d'imbar con fuori Aronsmith Trebb in coda Anubis andata facilmente a condurre la favoritaria dei Venti con Antonio Greppi che con lo slancio completa il primo quarto in 27,9 piuttosto animata la figlia di Ridicash che infatti completa ora i 600 iniziali addirittura in 42 Aria dei Venti che prende vantaggio da America Spritz poi Avenula Varenne ancora Articoget poi Aladimbar all'esterno Aronsmith Trebb è ancora chiaro il vantaggio di Aria dei Venti che sta per completare il primo giro addirittura in 1,11 e mezzo a 4,5 lunghecce c'è America Spritz che tiene ancora la seconda posizione seguita da Venula Varenne Articoget Aladimbar che ora alla destra libera sul calo di Aronsmith Trebb è ancora chiaro il vantaggio di Aria dei Venti poco prima dell'ingresso in retta d'arrivo dove Avenula Varenne si affaccia su America Spritz per anticipare Articoget e prova ad unirsi alla lotta anche Aladimbar che però per ora è arretrato Aria dei Venti è ancora in larghissima evidenza mentre Articoget e Aladimbar emergono sugli stanchi America Spritz e Avenula Varenne nel finale Aria dei Venti è decisamente in un'altra dimensione e completa un percorso clamoroso in 1,54 e 3 sul mio cronometro davanti a Aladimbar e Articoget 5,8 2 l'arrivo ufficioso della terza di Capannelle vi ripeto 1,54 e 3 sul mio cronometro che significa quindi media intorno all'1,12 per la figlia di Ridi Cash con Antonio Greppi i colori della scuderia Barbalbero ancora una vittoria e lunga serie vittoriosa Aria dei Venti e vince con largo margine su Aladimbar e Articoget 5,8,2 è tutto linea allo studio